Milano e Roma sono state le tappe conclusive di Kellogg's Better Days, iniziativa di Kellanova partita nel 2023 che ha portato alla riqualificazione di sette campi da basket anche nelle periferie di Pesaro, Torino e Brindisi quest'anno di Milano e Reggio Emilia l'anno scorso. Obiettivo? Promuovere uno stile di vita sano basato sul binomio alimentazione equilibrata sport e i valori dell'inclusione e della diversità. Il tour dopo aver raggiunto per la seconda volta il capoluogo Lombardo si è concluso nella capitale dove alla presenza di Elisa Tudino, Activation Lead Italia di Kellanova, Marco Bedinelli, gestista di fama internazionale e ambassador per il secondo anno di Kellogg's Better Days ha inaugurato il playground della cecchina. Sono molto contento e orgoglioso di essere ambassador appunto per questo progetto che appunto spinge un sano equilibrio, poi sicuramente anche la possibilità diciamo di avere questi campetti per poter giocare, installare un rapporto con la pallacanestro e magari conoscere fin da subito l'amore per questo sport. Sono eventi in cui ho la possibilità comunque di conoscere alcuni ragazzini, di trasmettere anche se per poco diciamo farli capire quando è importante diciamo anche una sana alimentazione ma anche comunque il fatto di venire e avere la possibilità appunto di avere campetti dove poter giocare. Quindi la mia parte è minima rispetto a tutto quello che fanno tante altre persone però cerco comunque di essere una persona importante e magari anche un esempio per questi bambini.